Siamo una minoranza che combatte su un fronte difficile, quindi almeno tra di noi dobbiamo essere collegati, dobbiamo essere solidali e soprattutto dobbiamo aprirci al territorio e sperando di trovare anche in futuro amministrazioni e realtà museali e culturali come qui a Fabriano particolarmente sensibili a questo, accoglienti e quindi continuiamo il nostro lavoro e il prossimo anno così non lo dico dopo e non mi dimentico, dopo aver fatto tante altre regioni andremo al convegno di quest'altro anno non saranno ancora in grado di dirvi dove la località e i giorni in cui si svolgerà sarà in Abruzzo.